Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Ruby, oggi on the road, sono sul ponte di una tangua iniziale, sentite i rumori di sottofondo Questa splendida giornata di sole, bene, volevo informarvi di una cosa Innanzitutto ringraziare tutti delle 100 iscrizioni, che per me è un numero tanto, che cazzo italiano ha Per me è un numero altissimo, lo so che c'è gente che vanta miliardi di iscritti, ma a me non è, a me già arrivare a 100 Per me è un gran numero, quindi io voglio ringraziare il centesimo che si è iscritto E veramente, grazie dei commenti, grazie dei mi piace, anche dei mi piace, eccetera Allora vorrei dirvi questo, una novità, ovvero che a breve aprirò un secondo canale E alcune rubriche che troverete nel primo verranno traslitterate nel secondo Traslitterate non lo usa neanche mio nonno, non lo usava, neanche mio nonno Quindi il primo canale, il piccolo ruby, si occuperà solo di libri, di film, di serie tv, eccetera Il secondo canale sarà un canale dove affronterò altre rubriche Come la rubrica, per esempio, il ruby on the road, sarà quello Poi ci saranno le opinioni del piccolo ruby, tratterò di varie opinioni su determinate cose, determinati argomenti E quello sulle discriminazioni non lo so se lasciarlo sul primo o sul secondo Nel prossimo video vi illustrerò meglio, vi darò il canale, può decidere anche un nome Se volete darmi qualche idea scrivetemela sotto i commenti Io sono aperto a qualsiasi suggerimento E niente, se volete riseguirmi anche lì Almeno faccio una cosa più ordinata, ecco Perché il primo preferisco dedicarlo più ai libri e ai film e concentrarmi solo su quello Ricordo che io non parlo di cinema ma parlo di film, che è diverso E poi praticamente parlerò del secondo canale Dove tratterò quegli vari argomenti Quindi se sarete ancora sintonizzati Adesso non mi vedete più Se siete ancora sintonizzati sul piccolo ruby Cioè il canicchio Il canicchio Se siete sintonizzati sul mio canale E queste sono le novità Bene, io vi do appuntamento la prossima volta E non mi resta che salutarvi in questo con qualche enorme brufolo Una roba orrenda Voi ritornare a mettermi il fondotinta, ricordatemi Io vi saluto e vi do appuntamento al qui e poi con le novità del secondo canale Ciao a tutti